Non facciamoci impressionare dalle percentuali, oggi S&P 500 sta segnando meno 1,5, manca ancora un'ora e mezza la chiusura, quindi fino alla fine come sempre bisogna aspettare, però al di là dei ribassi perché stiamo vedendo S&P 500 meno 1,5, abbiamo il Russell meno 1,9, siamo sempre sui livelli di venerdì, ieri c'è stato un rimbalzo che è andato a chiudere questo gap tra giovedì e venerdì, stiamo vedendo le S&P 500 su Scala Daily, quindi c'era questo piccolo gap tra la candela nera di venerdì e la candela in gap ribassista di venerdì, quindi ieri è stato chiuso, oggi torniamo indietro, ma siamo sugli stessi livelli, tutto perché chiaramente i mercati, come dicevo ieri, sono fondamentalmente in attesa della Federal Reserve, la riunione di domani. Il trend comunque è chiaramente debole, lo abbiamo detto nell'analisi di fine settimana, rinvio all'analisi pubblicata sabato mattina per chi non l'avesse vista, il riepilogo delle puntate precedenti è molto semplice, noi qui abbiamo avuto nel mese di luglio questo pullback verso la media 200 dell'indice S&P 500, però poi dopo che l'indice è stato respinto inizialmente sembrava stesse costruendo un minimo arrotondato per andare a ritestare di nuovo i massimi, poi c'è stato il famoso giorno del 26 agosto con le dichiarazioni di Powell a Jackson Hole che hanno tirato giù tutti quanti gli indici, che hanno portato su i rendimenti di tutti i bond in tutte le scadenze. Qua siamo andati a vedere il supporto 3.9, rimbalzo, questo rimbalzo su 4.050, vi ricorderete questi livelli 4.050, 4.250, ne avevamo parlato addirittura nel lontano ormai agosto, eccolo qui, agosto 23, S&P 500 si gioca il futuro tra 4.050 e 4.250, cioè eravamo qui in mezzo a questo range ed era chiaro che andare sotto 4.050 avrebbe aperto di nuovo la strada verso il test successivo degli altri supporti fino probabilmente ad andare a vedere i minimi, così è stato, infatti dopo 4.050 abbiamo fatto il pullback, poi qui c'è stato l'altro evento, la pubblicazione dei dati sull'inflazione con questa giornata shock, perché ricordo qui che sempre dobbiamo immaginare una candela nera che parte da qui su, perché qui c'è un grosso gap, guarda caso, su 4.050 che si è aperto tra il 12 e il 13 di settembre, però fondamentalmente abbiamo un mega bearish engulfing che aveva inglobato le tre candele precedenti, quindi questo è un piccolo riepilogo delle puntate precedenti, poi supporto di 3.9 che ha ceduto nella giornata di venerdì, e qui adesso abbiamo un altro piccolo supporto a 3.76 dove c'è quest'altro gap, un gap di scala inferiore qui del 15 di luglio, del lontano 15 luglio, dopodiché la strada è aperta per i minimi dell'anno, questi sono un po' i dati che abbiamo davanti, non ci sono segnali di accesso, qui la strada è ancora aperta, anche il Fear and Greed Index, sì, sta andando verso i livelli di paura, ma non ci sono eccessi, non abbiamo eccessi da nessuna parte, quindi in teoria spazio per scendere ce n'è, così come, ecco, questo molto dipende da quanto verrà detto domani, potrebbe anche innescarsi un ulteriore lag rialzista all'interno di questo canale discendente che ormai si sta delineando in maniera abbastanza chiara, possiamo anche tracciarlo, ecco, quindi il tutto è rinviato a domani, chiaramente non perdetevi il video di domani, lo registreremo un po' più tardi perché alle 8.30 c'è la conferenza stampa di Powell, quindi probabilmente il video lo registreremo intorno alle 22 alla fine della conferenza. Quindi questa è la giornata di oggi, un po' tutti gli indici si sono comportati nella stessa maniera, stiamo vedendo il DAX, stessa cosa, una candela nera, una percentuale di ribasso di oltre l'1%, ma siamo grosso modo sui livelli sia di ieri che di venerdì. Ecco, la volatilità tende a crescere come è normale che sia, prima di un evento del genere, però, e qui torno al discorso del Fear and Greed Index, non sono livelli di paura elevata, ecco, un VIX che per il momento è a 27, siamo su livelli medio-alti, ma non siamo lontani dai massimi che abbiamo visto nei mesi passati, che a parte febbraio-marzo, ma insomma sono questi livelli di 35, li abbiamo toccati ripetutamente anche nel mese di aprile, maggio, e anche nel mese di giugno, siamo ancora lontani, quindi il mercato se dovesse prendere un'accelerazione a ribasso, a strada fino alla test dei minimi, perché non abbiamo segnali di accesso da nessun indicatore, ecco, questo teniamolo presente. Per quello che riguarda le materie prime, anche qui non ci sono grosse novità, petrolio-1,38 rimane ben incanalato nel suo canale di regressione lineare, anche qui non ci sono per il momento eccessi, e non abbiamo segnali di reversal chiari, sì, c'è stato ieri questo tentativo di Hammer sul livello di 81, ma debole, niente di che, non abbiamo qui particolari elementi tecnici, a meno che non venga superato al rialzo area 88, quindi rimane inalterato il trend al ribasso, con il primo target qui alla verifica del minimo del 8 settembre in area 80. Passerei a questo punto alle richieste, ne abbiamo un paio per oggi, una riguarda un cross e l'altra la Cina, che è un po' di giorni che non guardiamo, quindi ora vedremo un po' la situazione, il cross è quello tra franco-svizzero e dollaro, che l'amico guarda attraverso questo CFD intitolato Indice Franco-Svizzero, ma di fatto è il cross, franco-svizzero-dollaro americano. Direi all'amico che il grafico è abbastanza chiaro, anzi possiamo anche togliere forse la volatility stop line, giusto per far vedere, togliere comunque in un attimo, non visualizzarla per un attimo, per far vedere come questo cross rispetta molto bene la media a 200, l'ha rispettata sia nella fase di salita che nella fase di discesa, anticipata da un lungo periodo laterale in cui la media a 200 ha avuto tutto il tempo prima di appiattirsi e poi di inarcarsi verso il basso, quindi questa fase laterale in ogni caso la media a 200 ha fatto sempre da resistenza tutte le volte che il cross è andato a impattare su di essa. Dopodiché faccio notare all'amico che è anche un movimento molto tecnico di questo cross, la proiezione verso il basso di questa reazione che ha dato vita poi al trading range che è durato praticamente da aprile 2021 fino alla rottura di aprile 2022, un anno, si è proiettato verso il basso direttamente e con grande precisione fino al livello di 99,40 e qui ha dato vita al nuovo trading range che è attualmente ancora in corso. Come vedete molto regolare i prezzi oscillano, rimettiamo un attimo la volatility stop line perché ecco ci fa anche vedere come la volatility stop line fa abbastanza bene da supporto e da resistenza, ecco adesso ha cambiato colore, ha fatto da resistenza assieme alla media a 200 dopo l'ultimo tentativo di andare verso l'alto, quindi direi all'amico di guardare questi livelli, adesso chiaramente la volatility stop line avendo cambiato colore è abbastanza aperta la strada adesso per il test di area 100, quindi il dollaro rimane molto forte su tutti i cross e quindi anche il franco svizzero pur essendo una moneta abbastanza forte rispetto al resto comunque non è riuscita a evitare quella che è la forza del dollaro e quindi questo trend ribassista per il momento è abbastanza chiaro e netto e non ci sono segnali di inversione prima del superamento di 106, ecco quando sarà superato 106 e quindi qualora il cross dovesse rientrare all'interno del vecchio range allora poi la situazione si potrebbe riesaminare. Veniamo finalmente alla Cina che avevamo seguito tempo fa, vediamo dove siamo rimasti, ecco allora se vi ricordate l'ultima volta avevamo visto che c'era un canale di regressione al ribasso che era stato rotto, era partito un trend laterale con un tentativo, quindi con un rettangolo che si era aperto con questa reazione tecnica, la prima reazione tecnica che aveva corretto in parte la discesa che era durata fino al mese di agosto, quindi si apre questo trading range, la parte bassa vi avevo detto che era un segnale negativo il fatto che i prezzi avevano stazionato per parecchi giorni sotto il livello di 13,3, avevamo tracciato questo minimo arrotondato, questo segno rosso che dava un minimo arrotondato, avevamo detto di stare attenti alla rottura di questo livello, quindi di 13,100. Ci siamo arrivati, siamo proprio lì, se guardate bene stiamo andando a testare la parte bassa di questo hammer che aveva fatto il minimo il giorno 5 settembre a 13,000 e ormai siamo tre giorni che battiamo qui, è preoccupante il fatto che da qui non ci sia stata per il momento una reazione netta, anzi ieri c'è stato un tentativo di piercing si chiama questa figura, cioè quando la candela gialla va all'interno della nera precedente però rimane diciamo contenuta all'interno del 50% del range della candela, è un segnale di reversal di importanza inferiore, chiaramente i segnali più potenti sono i bullish engulfing come questo qui, questo che vi sto indicando qua del 4 agosto, questo è un segnale di reversal di potenza inferiore, infatti oggi siamo con una candela inside all'interno della candela di ieri, quindi preoccupante questo stazionamento in area 13,000, se dovesse cedere 13,000 non rimane molto altro fino al test dei minimi dell'anno in area 12,8, ricordo però che qui su questi livelli di 12,8 è intervenuto, poi intervenuta tra virgolette la politica, sono intervenuti dei provvedimenti di politica fiscale, monetaria, infatti questo è stato il giorno del reversal, perché dopo la discesa pesantissima, apriamo un attimo il quadro per far vedere un po' quello che è successo, intanto cancellerei il rettangolo che secondo me ormai ha perso la sua efficacia e cancellerei anche il trend di regressione, lasciamo come riferimento questo minimo arrotondato che è rimasto un po' l'ultimo baluardo in questa tendenza. Ecco anche per il China A50, noi seguiamo la Cina attraverso il future sul China A50, il future sui 50 titoli principali classe A. Possiamo vedere due trading range, il primo che si è sviluppato qui tra luglio 2021 ed è stato rotto a marzo 2022 tra 14,7 e 16,7, quindi 2.000 punti, e 2.000 punti siamo venuti poi giù, siamo venuti giù dritti nel mese di marzo di quest'anno fino a 12,7. Quindi qui è partito un nuovo trading range fra i due livelli, guardate qua come 14,7 ha fatto bene da resistenza, questo è un failure, il tentativo di rientrare nel vecchio range, guardate quanti minimi c'erano su quel livello, quindi questa resistenza è stata fatale, ha riportato giù il tutto a 12,7, quindi 12,7 diventa un livello molto importante, sappiamo che qua ripeto sono intervenute poi delle misure di politica monetaria, giravoce che la banca centrale cinese potrebbe aprire i rubinetti in caso di difficoltà, questo grazie anche al fatto che in Cina l'inflazione è relativamente bassa rispetto a quello che sta succedendo nei nostri paesi, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti e quindi avrebbe spazio di manovrare in supporto del sistema, ricordo che la Cina ha sofferto, infatti il bear market è iniziato molto prima rispetto all'Europa e all'America, è iniziato nel febbraio 2021, ha sofferto dell'esplosione della bomba, scusate, della bolla del settore immobiliare, vi ricorderete fine 2021 tutti gli eventi legati ad Evergrande, eccetera, quindi sta digerendo quelli che erano gli eccessi di un settore molto importante per l'economia perché pesa sul PIL cinese per circa il 30% il settore immobiliare e quindi un po' di tempo di digestione al quale poi diciamo su questi eventi si è andato a incastrare anche tutto quello che è il quadro geopolitico, le tensioni, Taiwan, il supporto alla Russia, ecco tutto questo sicuramente ha penalizzato perché qui noi avevamo avuto un movimento rialzista che vi ricorderete nel mese di luglio sembrava promettere un'inversione del trend dopo il lungo bear market e invece poi le complicazioni dovute anche al quadro geopolitico, le tensioni su Taiwan diciamo hanno riportato il tutto verso i supporti, diciamo tutto sta pesando in questo momento sulla Cina quindi adesso è da osservare molto attentamente quello che accadrà su questi livelli dove ci sarebbe da attendersi un reversal però dal punto di vista tecnico per il momento i segnali non ci sono va bene direi è tutto per oggi video leggermente più breve ma neanche tanto perché facciamo sempre almeno 15-16 minuti però il tempo che ci vuole ci vuole per essere un po' più chiari almeno spero nelle delucidazioni su le situazioni che andiamo ad analizzare lasciate nei commenti le segnalazioni di situazioni interessanti così poi continueremo a vederle non perdetevi il video di domani molto molto importante Federal Reserve riunione del FOMC e decisione sui tassi di interesse e soprattutto su quello che sarà il quadro futuro per i prossimi mesi per i prossimi trimestri per il momento grazie a tutti per l'attenzione appuntamento a domani